Vale Continuiamo A volte il sonido è un poco alto Vale Vale Esto es Anastasia Que me pone un lugar Que claramente no es el que le había dejado Bug bastante conocido Del juego Vale Seguramente querría ir aquí No tira la nombra Ahí Correcto Correcto Y no correcto Vale Me mataron a esqueletos Pero yo creo que no me hace falta nada de esto No No ¿Con qué mataste 60? Alzheimer total Y vuelve Ok Ok Ostras No mejore mucho Vale 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 No 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 Sì Oh yeah, c'era! Tarda un poco, va un poco a saltos, pero he de decir que estoy grabando mientras codifico video a la vez, así que bastante ágil. Uy, como dejo esto aquí? Ok, chau. ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no me deja mover? Solo me deja mover a los nuevos. Bueno, pues vale. Me la has liado. Bogisoft. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Papirro! ¡Te toca! no me lo deixo mover, che le ha passato? vale, poi altro fallo no, è che il vampiro non si muove brutal a ver, è che realmente lo puedo dejar hasta en automatico perché al essere in coliseo non sono bajas permanentes vale, come iba dicendo, il combate automatico hizo que petase perché il fallo aquello, quitando il movimento dei vampiri non poteva essere procesato per la IA wow, asi che nada, ripetiamo i combates e di passo aprovecho per limpiar un poco mas ok 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 ...d'atturanza... ...d'ambio di forma... Grazie a tutti 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 e questa zona me la ponen come neutral che curioso ma questo è uno di orca però io non sto insolito per mettermi orca sono molti di dios molti di dios e ademais van a ir primero perché sono rapides no me agrada no me agrada non mi agrada adesso posso lasciarli come è che 57 iniziativa deve essere per mis abilità uff li scanné per 2 no muero però non se les quita questo va va no 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 Donde che vai? Donde che vai? Por que me muevo tampocco? Sem que fosse. Pudor. 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 è normale ma sto mancando perché al principio dovrebbe aver tirato un martir che non lo dice ah, e stanno qui arrivo i centauri vale, vale no, no, no vale, si que entiendo un poco por qué me hicieron tanto daño no, no, no qué pasado de combat no, no, no ¿qué me falta? no, debe considerar que haya construido o convertir bueno, pues nada desde aquí ahora de viajar no, 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 no no, 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 no Venga già ambra, sono solo a krenati. Grazie a tutti. 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 Vale. Se deve teleportare. In una semana o igual dos termino il mapa.